Il credito al consumo cresce tra gli anziani. In due anni gli over 65 sono passati dal 6,5 al 9% del totale delle richieste di finanziamento. In un periodo di crisi in cui anche i prestiti personali si fanno piccoli, tanto per importo quanto per numero di richieste, per questa fascia di popolazione appare più semplice chiedere e ottenere la rateizzazione dei pagamenti. La domanda media di prestito da parte degli italiani con più di 60 anni è piuttosto elevata. Vengono richiesti 10.500 euro da restituire in un periodo di tempo abbastanza lungo, 67 mesi, equivalenti a 5 anni e mezzo. La somma richiesta e la durata si convertono in una rata mensile pari a circa 200 euro da rimborsare con uno stipendio o pensione, visto che l'80% del campione non lavora più, di circa 1.500 euro. I tre quarti delle domande arrivano dagli uomini. Ma per quale motivo gli over 60 hanno chiesto un prestito nel 2013? Nel 23% dei casi per avere liquidità da gestire come si preferisce. Seguono al secondo e terzo posto la ristrutturazione di casa e l'acquisto di auto usate. Da notare poi che i prestiti per le spese mediche superano il numero dei finanziamenti richiesti per comprare un'auto nuova.